Corner di Petruccelli, sponda aerea di Porcaro ed il gol di Capitan Iannini. È la rete che vale tre punti fondamentali nella corsa play-off per la Fidelissandria di Potenza su di un terreno di gioco particolarmente complesso come quello del Gobbato di Pomigliano. Gara surreale con le porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto campano e terreno di gioco non perfetto. A condizionare il match ci si mette anche un forte vento. Tante le assenze in casa andriese con un 3-4-3 completamente inedito per Potenza al suo secondo turno di stop per squalifica. Assenze per Cipolletta, Zingaro, Piperis, Cristalli e De Filippo. In campo c'è la conferma di Benvenga a destra e il ritorno titolare di Porcaro. In avanti il trio formato da Variale, Siclari e Bortoletti. Per il Pomigliano decisamente un buon momento con il tecnico Vitale a scegliere un 4-3-3. In avanti il trio Romanazzo, Buonocore e Poziello, panchina per l'andriese Suriano. Ma la Fidelis parte subito meglio e tra i protagonisti c'è subito Alex Benvenga con un tiro da posizione ottimale nel cuore dell'area di rigore sventato da Sorrentino dopo una bella azione sviluppata a sinistra da Paparusso e rifinita al centro da Iannini. Uno squillo della squadra ospite in un primo tempo decisamente avaro di emozioni e con un ritmo bassissimo, con il Pomigliano attento ed abile a conquistare anche un paio di calci d'angolo che non sortiscono però effetti particolari. Dalis Pogliatoi non torna in campo Romanazzo per i padroni di casa ed al suo posto c'è Di Siervi, mentre la Fidelis prova subito a dettare i ritmi e il neo entrato Adamo a correre veloce a sinistra e da servire una palla invitante per Petruccelli, protagonista durante il match, che calcia di prima intenzione e coglie la traversa. Sulla respinta Siclari si fa deviare il tiro in corner, ma proprio dagli sviluppi del calcio d'angolo arriva la sponda giusta di Porcaro per Capitano Iannini, che deposita in rete anticipando l'intervento della difesa di casa. Esultanza nello stadio deserto e gioia per i ragazzi biancazzurri. Il tecnico Campano sceglie allora di inserire subito Girardi per dare più consistenza al suo attacco ed il Pomigliano si rende pericoloso con un cross al centro di Liberti, ma forte anticipa tutti e mette in corner. I padroni di casa cercano con più insistenza il lancio lungo proprio per il neo entrato Girardi e Pomigliano, schierato con un 4-2-4 dopo l'ingresso anche di Suriano, attaccante originario di Andria, che alla mezz'ora ci prova dai 25 metri, ma la sfera è alta. E' sempre Suriano ad ispirare la manovra di casa ed il suo cross finisce sui piedi di ritieni, deviato da Zinfollino in corner. I padroni di casa però in questa occasione protestano per una presunta trattenuta di Porcaro ai danni proprio di Girardi. Sui guantoni dell'estremo difensore ospite di fatto si chiude in realtà anche il match, che non riserva più particolari emozioni nonostante i 5 minuti di recupero. Ora la Fidelis è attesa da un trittico di sfide che valgono di fatto l'obiettivo playoff. Domenica prossima da definire ancora dove e se senza pubblico ci sarà la sfida casalinga al Cerignola, poi trasferta a Bitonto ed infine il ritorno al Degli Olivi contro il Savoia.